Edoardo Stocchino, qual è il tuo rapporto con la salute? Per adesso è buono, non ho grossi problemi. Di sicuro aver iniziato a fare sport da ragazzino mi ha aiutato tanto. Comunque si spera di continuare così, un ottimo rapporto e tranquillo. Il tuo rapporto con l'alimentazione invece, i pasti giornalieri? Tanti, ma ben bilanciati. Comunque allenandomi 6 ore al giorno ho bisogno di introdurre anche tante calorie. Ormai abbiamo raggiunto uno stile alimentare che mi porta a mangiare più o meno 4-5 volte al giorno. Però è tutto calcolato in base al mio sforzo fisico. L'infortunio più brutto che hai superato? L'infortunio più brutto è stato nel 2015 quando ho dovuto interrompere la mia stagione praticamente all'inizio per un problema abbastanza importante alla spalla, un tendine alla spalla. Ma macinando tanti chilometri tutti i giorni è una cosa normale. Il fatto che io sia riuscito a recuperare questo infortunio e l'anno successivo riconfermandomi ai vertici mondiali vuol dire che è stato curato bene, però ogni tanto torna a farsi sentire, ma lo teniamo lì.